Benvenuti! Oggi scoprirete cosa nasconde la canzone M percentuale N, cioè Moon, di Da Supreme. Moon, canzone nuova, lavata e pulita di Da Supreme, è uscita, e con essa anche il video ufficiale e officinale. Ma nasconde qualcosa. Cosa nasconde? Lo dirò io, non preoccupatevi. Allora, la canzone è stata fatta e pubblicata, ma se la ascolterai 13 volte un giorno e poi 14 volte un altro giorno, Tutte le persone del mondo e dell'universo e del multi-universo non riusciranno più a fare le rime. Io, ad esempio, che l'ho ascoltata 13 volte ieri e 13 volte oggi, se la ascolterò una quattordicesima volta non riuscirò più a fare le rime. Facciamo una prova. Adesso farò delle rime. Cina, Kina, Rina, Tina, Forcina e Pattina. Ok, so fare le rime. Adesso però ascolterò la canzone una quattordicesima volta. 3 minuti e 3 secondi dopo aver ascoltato la canzone di Da Supremo. Ok, l'ho ascoltata. Provo a fare delle rime. Quella più facile, dai, con are. Mare, faretti, aggiusto, vongola, cimeglio, portfoglio. Niente, non riesco a fare le rime, avete visto? È una prova questa. Ma poi, come mai 13 e 14 volte? Beh, ovvio, perché la M di Munna è la tredicesima lettera e la N è la quattordicesima lettera, in base a questo schemino simpatico. Simpatico. Però mi sembra di aver capito che non si può nemmeno più andare a tempo. Facciamo una prova. Lino d'Italia. Fratelli d'Italia, taglia a desta. Ecco, non riesco nemmeno più ad andare a tempo. Allora, per rimediare bisogna dire una frase. L'ho inventata io da un laboratorio segreto. Basta anche ascoltarla per far partire l'incantesimo. La frase è proprio questa. Io rimedierò. Pop, 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 pop. Sta tornando tutta la normalità. Facciamo veloce una prova di rime e tempo. Mare, fare, andare, mangiare, portare. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Sì, funziona! Ho fatto una canzone su questo fatto. Ascoltatene un pezzetto, ma solo un pezzettino, eh. La canzone completa sarà caricata online lunedì 1 novembre 2021. Caricata online. Da Supremo ma poi è sparito via. Attenzione, attenzione. Per i più fedeli lasciate i più commenti possibili perché verrete salutati nel prossimo video che sarà su Lion. Mi raccomando, c'è già gente in gara quindi lasciate tantissimi commenti. Mi raccomando, è importante.